Quante volte soffriamo perché non siamo come gli altri? Ma cosa succederebbe se ci mettessimo d'accordo e creassimo uno spazio dove dirsi l'un l'altro che è ok essere diversi? Se dessimo vita a una comunità in cui non essere come gli altri è meglio? E se ti dicessi che questo spazio esiste già? L'FC Sant'Ambrose è una squadra di calcio milanese composta per buona parte da ragazzi di origine straniera richiedenti asilo in Italia. Io stesso ho vestito la loro maglia e negli anni la squadra è stata un sostegno nei momenti difficili. Mi ha aiutato a integrarmi e a farmi sentire parte di un gruppo. Vorrei sopportare il centro sportivo FC Sant'Ambrose che ha messo i valori di comunità e condivisione davanti a tutto affinché diventi un posto dove stare insieme. Un luogo di aggregazione inclusivo e sostenibile che parte dalla comunità locale e apre le porte a tutta la città. Dalla realizzazione di un arte urbano alla creazione di un'area green dedicata a eventi e intrattenimento. Fino a un nuovo impianto di illuminazione innovativo ed ecosostenibile. Tutto questo sarà possibile solo grazie al vostro supporto. Io sono Antonio Di Chiri Di Stefano, sono uno scrittore e questo è il progetto che ho pensato di realizzare insieme a Timberland.